A casa tua chi comanda? A casa mia comanda mia moglie, cioè proprio è inutile che tu mi faccia queste domande Guarda, sei sposato tu, no? No, per fortuna ancora Eh ma, guarda, stai tranquillo, tranquillo, cioè proprio è un... Ma io posso ancora scappare, eh? Ci cascano tutti, dai Ma anch'io scappo, cioè a casa mia io faccio quello che mi pare Ma sei sempre in giro? No, no, io posso, in casa mia posso fare quello che mi pare Tanto brontola e quindi faccio quello che mi pare Quando io sono bravo, brontola Quando non sono bravo, brontola E allora... Fa tu Angelo, angelino, no, non dirlo al buon Dio Dovevi illuminarmi, fatto è illuminato io Angelo, angelino, a vederti adesso Chi direbbe mai che non avete sesso?